operazione gota e pozzo 2 24 gli arresti e 150 milioni i beni sequestrati messina 24 giugno 2011 nelle prime ore di oggi in diverse località della provincia di messina i carabinieri del ros del comando provinciale e la ria di messina hanno eseguito due provvedimenti cautelari personali e patrimoniali che hanno portato all'arresto di 24 persone ed al sequestro preventivo di beni per un valore complessivo stimato in circa 150 milioni di euro i provvedimenti in questione sono scaturiti da due distinte ed articolate indagini condotte a carico degli esponenti della famiglia mafiosa di barcellona pozzo di goto e delle sue diramazioni territoriali la prima denominata gota è condotta dai caribinieri del ros unitamente a quelli del comando provinciale per l'esecuzione del provvedimento cautelare personale e da unità della dia per l'applicazione della misura patrimoniale la seconda denominata pozzo 2 condotta dai caribinieri del ros che hanno provveduto all'esecuzione degli arresti e dei sequestri i provvedimenti scaturiscono da una vasta indagine condotta nei confronti di cosa nostra messinese che aveva già interessato in passato diverse realtà criminali della fascia tirrenica e della provincia l'indagine gota ha avuto origine della recente collaborazione con la giustizia ed alcuni soggetti per i dettagli e l'approfondimento vi rimandiamo all'articolo contenuto su mediterraneo online.it